Si può iniziare proprio con le parole di San Paolo che parla di una sapienza di questo mondo che in realtà è stoltezza e allora dice se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo non illudetevi, si faccia stolto per diventare sapiente perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Qual è dunque questa sapienza divina che è stoltezza per il mondo? È scritto qua ma si può anche nel Vangelo esemplificare. È la stoltezza secondo il mondo quando uno non si vendica. Se ho ricevuto un torto lascio correre. Se qualcuno mi obbliga a fare qualcosa ingiustamente ne faccio anche di più. Se uno ha con me delle pretese che non sono rette o corrette lo ha secondo e questa è stoltezza perché noi combattiamo continuamente per i nostri diritti. Se poi vengono messi in ballo anche quelli che sono il nostro orgoglio, il nostro amor proprio che viene offeso diventa ancora più difficile. No, facciamo fatica sulle cose ma sulla persona quando qualcuno ci colpisce come minimo vogliamo una rivendicazione. A volte solo una giustizia, spesso purtroppo la vendetta. Non fanno così anche i pagani, dice Gesù? Che differenza c'è fra voi i pagani? Allora la stoltezza che Gesù invoca e San Paolo gli fa eco con altre parole è la stoltezza di chi si lascia crocifiggere ingiustamente per assomigliare al Padre. E qui è veramente difficile capire perché assomigliare al Padre forse è che Dio è ingiusto o che lascia correre o che è a seconda i malvagi e non fa giustizia per il suo eletto o per chi crede in lui. Farà giustizia prontamente, dice Gesù in un altro punto, ma non è il pronto che immaginiamo noi. Perché c'è un tempo di pazienza, un tempo che Dio conosce, che è il tempo delle possibilità. Di fare un errore, un peccato, del male e di pentirsi. Infatti, dice, qual è questa santità o questa perfezione o questa immagine di Dio che noi dobbiamo avere perché siamo a sua immagine dunque sui figli? Fare quello che lui fa, sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cosa vuol dire dunque? Il bene come risposta sempre a tutti senza calcolare chi è buono, chi fa male, chi è giusto, chi è ingiusto. Perché questo è faccenda di Dio dopo. In questo tempo dunque sulla terra noi operiamo con la stoltezza del mondo, cioè lasciamo correre come si suol dire, sopportiamo, lasciamo anche che gli altri ci trasformino in vittime perché la nostra vendetta è il Signore. Nel senso che Lui ci farà giustizia. perché se io spezzo con il perdono e l'amore per i nemici quello che è la catena di odio, di vendette e di faide che durano quanto è lunga la storia dell'umanità, se io lo spezzo io assomiglio a Dio e vengo tratto fuori dalla catena. Se io invece faccio parte dell'anello della lunga catena, hanno detto hanno fatto loro anch'io perché in passato, eccetera. Io sono legato, incatenato a un ciclo senza fine di faide contro faide, giustizia contro giustizia e pur volendo o reclamando una certa giustizia, in realtà faccio parte della stessa catena che rende occhio per occhio, dente per dente. Amo gli amici e odio i nemici e se un amico mi diventa nemico, peggio per lui perché mi diventerà nemico sarà ancora peggio. Spezzare questa catena vuol dire spezzare la logica del mondo ed entrare nella logica di Dio. Questo non vuol dire che noi avremo qui sulla terra giustizia, né che vedremo le cose andare a posto, non vedremo il cattivo punito e non vedremo il giusto con la giustizia che gli viene da Dio, ma dovremo passare attraverso questo mondo intatti nel cuore, nello spirito, dice appunto che noi siamo tempio dello spirito santo, perché Dio abita nel cuore dei miti che si fanno come lui e dunque ci porterà a perfezione con la resurrezione nel suo regno. Questo è il tempo, il banco della prova, è il tempo della sopportazione che saggia la qualità del nostro cuore che per Cristo, per fare come lui ha fatto, sopporta perché lasciarsi inquinare dall'odio, dalla violenza e tutto quello che c'è attorno vuol dire non far parte del regno di Dio, del regno dei cieli, ma far parte del mondo che è destinato alla perdizione. Siamo dunque chiamati a rinunciare alle leggi del mondo per entrare in una logica che il mondo non capisce e che chiama follia, demenza, assurdità, insipienza. Questi sono i cristiani e il giudizio sui cristiani, infatti, da parte di altri popoli, è proprio di gente che non vale niente perché tanto non sono né aggressivi né difendono né ha ed è un bene questo in realtà perché in questo modo Dio sa diffondere dentro di noi e fuori di noi la sua grazia, il suo amore ed è grazie alla gente così che tante grazie di tanti mali vengono evitati e diventiamo scudo per il mondo che odia. Quando il mondo che odia ha la prevalenza sulle cose probabilmente dovremmo farci la domanda se siamo stati veramente cristiani che perdonano, che amano i nemici e che non odiano perché così facendo lo Spirito Santo abita in noi, noi diventiamo tempio lo Spirito Santo e aumentando il numero e la saldezza di questa catena che è una catena con lo spirito di amore, che è una catena di amore, aumenta la forza dell'amore di Dio che è sopranaturale in un mondo che invece è incatenato dal peccato, odio, vendette, tutte quelle cose che conosciamo. È una lotta fra luce e tenebre. Tutto questo il mondo chiama follia ma noi la chiamiamo con San Paolo la sapienza, la sapienza della croce che è quella del sacrificio della vittima innocente che offrendo al Padre in realtà garantisce la salvezza per l'umanità stessa. Se l'ho dato Gesù Cristo.